Ciao a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi abbiamo tra le mani quello che potremmo definire un vero e proprio peso massimo del settore videografico e fotografico Parliamo della Panasonic S1H, ovvero la prima mirrorless full frame a essere in grado di registrare a risoluzione 6K Panasonic me l'ha mandata, o meglio Lumix, però provata per circa un mesetto Ci ho fatto tanti video, ci ho fatto tante foto, più a scopo ludico mio personale Proprio perché sono voluto entrare in sintonia in una situazione che non fosse il normale lavoro, la normale routine Ma proprio per cercare di capire quanto fosse avanzata questa fotocamera, anzi questa videocamera che fa anche le fotografie Dopo capirete anche il perché di questa affermazione Videocamera che tra l'altro è stata certificata da Netflix come una delle e l'unica mirrorless certificata da Netflix Che può essere usata per fare produzione su Netflix Andiamo a vederne peculiarità, caratteristiche, pesi ingombri e piccole criticità di una macchina che mi ha messo davvero al limite E di cui non sono riuscito a scoprire i limiti Partiamo proprio dalla confezione e dal corpo e dall'obiettivo che ho In quanto vi permette di contestualizzare un po' il tutto Allora, il corpo è completamente tropicalizzato, non è tanto diverso rispetto a quella dell'S1R Che avevo già provato quando era uscita, quindi a inizio del 2019 Ma c'è una sporgenza maggiore per quanto riguarda il display Questo perché? Perché non solo il display è completamente orientabile Proprio come avviene su tante altre fotocamere Ma c'è anche questo particolare meccanismo che vi permette davvero di poterlo inclinare come volete E quindi poter catturare l'immagine in qualsiasi contesto È davvero, secondo me, il migliore meccanismo per pivotare lo schermo attualmente in commercial L'unica piccola criticità è che quando lo alzate in questo modo e girate poi lo schermo in posizione frontale L'immagine non si gira in automatico Sicuramente è un piccolo bug sfuggito agli ingegneri di Panasonic Che verrà sistemato poi con futuri update La sporgenza però non è causata solamente dal fatto dell'integrazione di questo meccanismo per lo schermo Ma anche dall'inclusione di una ventola Ventola che serve per il raffreddamento Essendo una videocamera non ha limiti di registrazione Quindi registra filmati anche superiori a 30 minuti Se voi attaccate all'alimentazione e avete una scheda SD davvero molto grande Riuscite a registrare anche per ore Cosa succede? Quando registrate per ore i sensori si surriscaldano Allora per evitare il surriscaldamento del sensore Fenomeno che può portare al suo decadimento Sia in termini di fedeltà dei colori Sia appunto in termini del fatto che muoiono alcuni pixel Le Panasonic ha incluso una piccola ventola Ventola che praticamente non fa rumore Riuscite a percepirla quando entra in azione Solamente se appoggiate la fotocamera all'orecchio in questo modo Dalla parte destra entra l'aria Dalla parte sinistra esce l'aria calda Quindi un meccanismo che entra in azione solamente quando serve Quindi solamente quando il sensore raggiunge certe temperature Tutte via il funzionamento poi si può impostare sempre dalle impostazioni Scusate il gioco di parole Corpo come ho detto che è poi grande 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 E anche molto pesante E' tropicalizzato quindi resiste a piccole gocce d'acqua e polvere Sul sito delle specifiche di Panasonic però c'è scritto che la macchina non è garantita al 100% Contro acqua e polvere Questo perché? Perché se l'acqua entra dalle griglie Allora non c'è tropicalizzazione che tenga Detto questo come potete vedere l'impugnabilità è davvero ottima Ma le dita qui finiscono esattamente dove sono stati posizionati i due pulsanti E qui sulla parte in basso c'è un ulteriore pulsante di registrazione Che è anche nella parte superiore In questo caso è comodo perché quando fate video Tendenzialmente prendete la videocamera in questo modo E andate col pollice naturalmente a premere il pulsante di registrazione Nella parte posteriore poi c'è un comodo joystick Bello, dà un bel feedback, è molto tattile, mi piace E poi una serie di pulsanti che sono anche retroilluminati Oltre al D-pad consente di muoversi tra i menu Menu che sono utilizzabili anche col touch Perché Panasonic in praticamente tutte le sue mirrorless full frame Integra uno schermo touch al 100% Quindi potete utilizzarlo non solo per la selezione del punto di messa a fuoco Ma anche per cambiare le ISO, per impostare vari valori E navigare appunto tramite i menu Il tasto di scatto doppia corsa è lì dove l'indice si va ad appoggiare automaticamente Nella parte destra ci sono due slot per schede SD Perché Panasonic ha abbandonato il primo slot XQD? Semplicemente perché essendo questa una videocamera più che una fotocamera Anche per registrare a 400 Mbps una scheda SD con standard UHS-II È più che sufficiente allo scopo Nella parte sinistra invece ci sono una porta HDMI a grandezza standard Una porta USB-C che serve anche per la ricarica La porta per le cuffie, la porta per il microfono Sono due jack aux da 3.5 mm e infine un ulteriore jack per collegare il comando remoto Nella parte inferiore invece c'è questo sportellino che una volta rimosso svela la contattiera Per collegare il battery grip venduto però separatamente E poi il vano della batteria Batteria da 3.050 mAh Ho avuto impressioni positive perché? Perché semplicemente dura tutto il giorno Mentre la S1R è la più energivora Questa S1H mi ha permesso di affrontare tranquillamente un normale flusso lavorativo Tra virgolette di una giornata Quindi tutta la giornata scattare foto e video Però ho notato che l'indicatore nell'LCD nella parte superiore Come indicato anche da Gianluca Bocci Ha una segnalazione della carica non lineare Nel senso che le prime tre tacche durano infinito E le ultime due si scaricano invece di punto in bianco Quindi a livello di corpo davvero bella L'unico contro qual è il peso Infatti solo il corpo quindi senza considerare l'obiettivo che tolgo per l'occasione Solo questo qui pesa 1164 grammi Ovvero 1.150 kg Mentre se aggiungiamo l'obiettivo si superano facilmente i 2 kg Questo in particolare è un 24-105 f4 macro Quindi è già uno tra i più leggeri Se ci mettete un 50 mm f1.4 di Panasonic Beh, tutto diventa davvero pesante Allora, la pesantezza di per sé non è un reale difetto Questo perché? Perché se la intendete come macchina fotografica Allora la utilizzate così Andate giù in giro Immaginatevi lo scenario di un 7 oppure di un matrimonio Dovete sempre correre, sempre essere di fretta Sempre essere al posto giusto, al momento giusto Vi affaticherete nel giro di pochi istanti Perché portare 2 kg con sé in questa maniera qua È molto molto pesante Se invece la intendiamo sul campo video Allora non è così pesante Perché nel campo video se prendiamo una qualsiasi videocamera Pesa ben di più di 2 kg Degli ingombri ben più grandi di questa qui E soprattutto l'impugnatura cambia leggermente In quanto abbiamo questo supporto qui È già così sempre più leggero Ma avere più peso in mano Significa fare delle riprese più stabili E avere delle mani e un supporto un po' più fermo Questo quando si registra uno video a mano libera Senza l'ausilio di un supporto Parlando poi di sensore Andiamo direttamente sulla scheda tecnica C'è un 24.2 megapixel full frame Retroilluminato con doppio isonativo Cosa significa doppio isonativo? Che c'è l'iso che parte da 640 Quindi da 640 a 4000 E poi il secondo iso che parte da 4000 Fino a 51.200 ISO Questo cosa permette? Che se voi dovete scattare a per esempio 12.000 ISO Non state passando da 100 ISO a 1000 ISO Ma state passando da 4000 ISO di base a 12.000 ISO Quindi l'incremento di rumore sarà molto più ridotto Infatti la dimostrazione di questo è che Scattando delle foto a varie ISO Il rumore inizia ad essere realmente percepibile Proprio a 12.600 ISO Soia che già a 12.600 ISO scattate veramente in condizioni in cui con altre macchine O avete un set di illuminazione veramente ben fatto Oppure lasciate la macchina e rinunciate a fare la foto Ma la cosa più sorprendente è che anche spingendovi a 51.200 ISO Il rumore certo c'è, si vede la grana C'è, si perde qualche dettaglio se si va a zoomare Ma non è così esagerato come per esempio quello ottenibile da una normale APS-C Della concorrenza o peggio da una fotocamera con sensore micro 4 terzi Davvero la gestione delle ISO di questa macchina qua è incredibile Considerando che a 24 megapixel vi permette davvero davvero di fare qualsiasi cosa Anche in condizioni di illuminazione appunto non ottimali Per quanto riguarda l'autofocus invece c'è un sistema di autofocus a contrasto Che si basa su 220 punti di messa a fuoco Ora l'autofocus di per sé funziona bene È abbastanza preciso e mi è piaciuto tantissimo il fatto di poter regolarlo davvero in maniera fine dalle impostazioni Nel senso che potete regolare il tracciamento del soggetto Potete regolare la velocità in cui riconosce l'occhio E come si comporta durante tutto il tracciamento Insomma ci sono davvero tante tante impostazioni e possibilità di personalizzazione Per ottenere davvero l'effetto che si vuole Però non è così preciso come i sistemi di messa a fuoco e rilevamento di fase della concorrenza Certe volte quando insomma il contrasto tra lo sfondo e il soggetto non è così netto Tende a fare un po' di hunting e molto spesso questa cosa succedeva anche sull'S1R Si concentra poi sullo sfondo oppure lascia l'immagine completamente sfocata Quindi è sì preciso, è sì veloce, va bene Ma non è al 100% affidabile come altri sistemi di messa a fuoco Su questo forse Panasonic deve lavorare ancora di più E' anche vero che per la tipologia di produzioni, quindi produzioni professionali E anche per Netflix raramente si usa l'autofocus Kaboom, a livello professionale la messa a fuoco è sempre manuale Perché dovete essere precisi al 100% Non potete rischiare di avere hunting in una ripresa, un washout Dovete essere proprio precisi di quello che andate a registrare Bellissima poi le ghere Le ghere sono tutte in metallo, sono personalizzabili Quella raggiungibile con l'indice e col pollice sono personalizzabili La ghiera di sinistra vi permette di selezionare la modalità Mentre sotto c'è una piccola leva che vi permette di attivare la modalità multiscatto Fino a 9ps con otturatore meccanico o con otturatore elettronico scatto silenzioso Ma anche lo scatto temporizzato E sempre dalla parte superiore si può selezionare anche la modalità timelapse Che vi permette di avere il timelapse già in camera E soprattutto si può mantenere l'impostazione automatica Quindi per esempio se volete fare il timelapse di un tramonto Lei adatta poi l'esposizione Man mano che il tramonto avanza in modo da avere sempre lo stesso bilanciamento È davvero una cosa fighissima Riuscite a tirare fuori dei video delle cose fatte veramente bene Con semplicità, con facilità Passando poi al software Il software è praticamente lo stesso di quello che abbiamo visto sulla S1H Essendo però sulla S1R volevo dire Essendo però più orientata verso i video abbiamo l'introduzione di alcune voci Proprio specifiche per i video Per esempio la modalità doppia zebra Che vi permette di selezionare due soglie di esposizione Per capire quale magari bruciare E quale invece esporre in maniera corretta Oppure il waveform, il vettorscopio Che vi permette che è quello poi con cui si lavora in post-produzione Durante i video La modalità V-Log L è già integrata in camera E si può scegliere una risoluzione fino a 6K a 30fps Oppure fino a 5.9k Anzi 6K a 24fps compatibile con l'anamorfico 5.9k fino a 30fps Sono però modalità un po' particolari Diciamo che sono state messe pensando ai professionisti del settore Che magari registrano in 6K e in 5.9k Per poi croppare in post-produzione Senza andare a perdere dettaglio Avendo tutta la qualità possibile e immaginabile Si tratta per un utilizzatore un po' più consumer Di una fotocamera che registra in 4K a 30fps Senza alcun crop Se registrate a 4K a 60fps Avete un crop di 1.5x Quindi praticamente avete un sensore APS-C E non più full frame Tenetelo in considerazione Potete però registrare col formato 400Mbps O l'intra Che ha davvero una mole di dati impressionante Riuscite poi in post-produzione A fare veramente quello che volete Ed è lì che vi dicevo che io ho incontrato il mio limite In quanto attualmente non ho le conoscenze Che mi permettono davvero di trarre il massimo Da questa fotocamera E in generale volevo dirvi che questa fotocamera Forse non è tanto una fotocamera Una videocamera pensata per l'utente appassionato Ovvero quel pubblico prosumer Consumer Che è anche disposto a spendere tanto Ma che sa poi comunque utilizzarla È davvero una fotocamera che si spinge ben più in là Rispetto a questa soglia qua E mi viene in mente il paragone fatto da Jeremy Clarkson Quando provò la 812 Superfast In cui disse Qui ci sono troppi cavalli Per essere felici In quanto non riesci mai a sfruttarli tutti Quindi se non avete le giuste conoscenze Andate a provare questa macchina qua Non riuscirete mai davvero a goderne appieno Di tutte le sue potenzialità È molto particolare È davvero uno di quegli oggetti Che mi ha fatto davvero piacere provare Ringrazio Lumix e Panasonic per questo Ma davvero mi ha spinto al limite Non è una fotocamera appunto Alla portata di tutti È un prodotto molto particolare Di elevatissima qualità Però destinato ad un pubblico ristretto Che davvero poi sa coglierne tutti gli aspetti E sfruttarli a proprio vantaggio Per restituire quelle emozioni Che tutti noi cerchiamo Quando guardiamo una serie tv Un film Un video Realizzato anche Un corto Insomma Davvero 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 Tanta 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 roba Complimenti a Lumix per questa fotocamera qui Ripeto poi per quanto riguarda i video C'è anche lo slow motion Fino a 120 fps In questo caso Panasonic ha fatto Una scelta secondo me intelligente Perché è vero che la S1 E la S1R Permettono lo slow motion Fino a 180 fps Ma vi perdete i controlli manuali E il crop importante In questo caso invece Non c'è alcun crop Sfruttate tutto il sensore Ma soprattutto Non perdete Gli automatismi Quindi potete comunque Usare il tracciamento Dell'autofocus Oppure l'esposimetro automatico E Però tutto questo Vi permette poi di registrare Comunque a 120 fps Ed avere i rallenti Direttamente in camera Registrando peraltro Anche l'audio Anch'esso Rallentato Cosa che in alcuni casi Può comunque darvi Quelle Quelle Quel suono Che Quell'effetto Che volevate Trasmettere Comodissimo anche Il display Nella parte superiore Questa è una di quelle cose Che sulla mia mirrorless Ovvero la sonia 7.3 Mi manca Perché ogni volta Poi devo andare a vedere Le impostazioni Che ho selezionato Sullo schermo Per vedere se sono corrette Eccellente anche Il mirino elettronico Di tipo OLED Ci sono 5 millisecondi In ritardo Ma non sono praticamente Percepibili Se lo impostate a 120 fps Godete davvero Ogni volta Che lo usate Questa Insieme ad altre pochissime È una delle poche Fotocamere mirrorless Che mi ha spinto Di più A usare Il mirino elettronico Anziché Il display LCD Tant'è che L'ho tenuto Per la maggior parte Del tempo chiuso E poi mettevo La fotocamera qui Anche perché È proprio comodo Questo oculare Circolare È davvero comodo Si può impostare Come lo si vuole Si può addirittura Impostare la sensibilità Del sensore di prossimità Davvero davvero Tanta roba Infine non manca Poi una ghiera Qui lock Per bloccare Eventuali Impostazioni automatiche Per quanto riguarda i video Infine l'ultima cosa C'è un po' di rolling shutter Soprattutto alle risoluzioni Più elevate Ma questa è una caratteristica Di tutte le mirrorless Perché Non riesce a leggere Sempre Tutto il sensore Quindi quando fate Un pan in questo modo qui Ci sarà per forza Di così Rolling shutter In alcune fotocamere Un po' più accentuato In altre come in queste Meno accentuato Ma comunque Ci sarà Sempre Che dire È una fotocamera Una videocamera Un prodotto professionale Vi lascio il link Qui sotto in descrizione Qualora Foste interessati Però mi faceva piacere Parlarne E condividere La mia esperienza Con voi Perché come vedete Non è che So tutto Ci sono certi prodotti Che mi mettono Al limite Ho quasi timore A provarli Proprio perché Insomma Alla fine Io vi do La mia esperienza Di utilizzo In base alle mie Conoscenze Ma ci sono prodotti Che superano Le conoscenze Per cui io Sì vi posso dare La mia esperienza Di utilizzo Vi posso dire Che è pesante Vi posso dire Che l'autofocus Funziona in un certo modo Ma non vi posso Purtroppo Andare nel dettaglio Per quanto riguarda L'analisi Per esempio Del 6K A parte che Il mio computer Non regge Il file grezzo In 6K Quindi Ed è già Un octa core Quindi dovete considerare Per l'acquisto Anche il fatto Di avere un computer Un mac Che sia in grado Di leggere Gli enormi file Che questa fotocamera È in grado Di produrre Di nuovo Ringrazio Panasonic Per il test E per la fiducia Noi ci vediamo Come al solito Al prossimo video Iscrivetevi al canale Se ancora non l'aveste fatto Fatemi sapere voi Cosa ne pensate Di questa S1H Qui sotto Nei commenti Ciao Seremo mille Crecemos De numero Solo un trueno Deshorizontes Seremo Mille